Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di oggi 30 settembre. Noi ci eravamo svegliati pensando che questo fosse un governo di quelli seri, no? Abbiamo visto il Corriere della Sera, Repubblica, i vostri amici al bar, quelli che vi dicono, beh, ma è quello là del papete, poi quel di Maio, il Bibitaro, che peraltro è rimasto a fare il ministro degli esteri. Cioè, questo finalmente è un governo serio. Io vi metto soltanto in fila quello che è avvenuto in un tranquilla domenica di settembre, posto che a me le persone non sede e mi fanno simpatia. Quindi non è una critica nei confronti di questo governo, è una critica dei parrucconi della minchia che ci hanno spiegato che questo era un governo serio. Ieri il ministro dell'economia, Gualtieri, uno serio, uno storico, un solido comunista, finalmente al ministero dell'economia, si presenta dall'annunziata e dice che si farà l'aumento dell'IVA, 5 miliardi. Ovviamente, ragazzi, l'aumento dell'IVA non si dice mai aumento, si dice rimodulazione. La rimodulazione dell'aliquota IVA è come quando voi incontrate la vostra fidanzata e dite prendiamoci una pausa di riflessione. E la vostra fidanzata dice ma che cazzo stai dicendo? Una pausa di riflessione che cosa vuol dire? Una rimodulazione delle aliquote dell'IVA, che cosa vuol dire? Ti leggo oggi pagina 3 del messaggero e capisci cosa vuol dire la rimodulazione delle aliquote dell'IVA. Che il ristorante è al 12%, che i biscotti sono al 12%, che le merendine saranno al 50 mila per cento, cioè che sostanzialmente aumenterà l'IVA per 5 miliardi, come abbiamo detto ieri. Ma, ripeto, ieri Gualtieri si presenta dall'annunziata e dice che aumenterà l'IVA. Nel frattempo c'era Di Maio, che è ministro degli esteri, capo politico del partito più importante all'interno di questo governo, che andava in un'altra trasmissione e diceva l'IVA non si tocca! Ma questi sono seri, no? Questi non discutono più, non bisticciano più. Voi dite, aspettate perché la sorpresa arriva. E poi Conte che cosa fa? Prende e li convoca tutti quanti. E alle 10 di sera, ieri sera c'è stato un vertice notturno, l'ho letto oggi, su Quelli della Sera, su Repubblica, sul giornale, su tutti i giornali, per mettere d'accordo su questa benedetta questione dell'IVA che verrà decisa sostanzialmente nei prossimi giorni e questa sera ne sapremo qualcosa di più a Quarta Repubblica. Nel frattempo, Renzi, volete che stesse zitto? Renzi dice, no, l'IVA non si tocca! Quindi nel paradosso che Di Maio e Renzi sono d'accordo a non toccare l'IVA quando il ministro serio dell'economia, che è Gualtieri del PD, vuole che si cambi l'IVA, così come l'ha chiesto Franceschini in una dichiarazione oggi. Ragazzi, questi sono quelli seri e poi dopo c'è Mieli. Ragazzi, religioso silenzio, anzi, fumatevi un sigaro. Oggi, quando vi racconto tutta questa vicenda, il Corriere della Sera affida a Mieli, giuro, e non si sono drogati, questi sono seri, affidano al Corriere della Sera un fondo che inizia così. Inforco gli occhiali. Mieli, primo mese del governo, è parso tranquillo. Io dico, ragazzi, ma noi ci facciamo proprio, cioè come, ma proprio tagliamo i cactus così e ce li beviamo. Cioè, non so, qual è la droga più potente? Noi andiamo avanti con l'ayahuasca, non so questi che cosa si inventano. Ma come si può scrivere nel giorno in cui ci spiegano tutto il casino che c'è al governo, per l'IVA, che è una questione importantissima, oggi il fondo del Corriere della Sera di Mieli ci spiega che il primo mese è stato tranquillo. Beh, evidentemente, lui sì che ha nella sua testa il papete, come tipo di casino mentale, se pensa che questo è un governo tranquillo, posto che a me i governi che discutono mi fanno impazzire. Siamo ritornati al pentapartito della Prima Repubblica, in cui c'era il mio amato Partito Liberale che col 2% faceva finta di comandare. Ma comunque, andiamo sulla manovra. La manovra, ovviamente c'è la lite tra gli alleati, forse soltanto Mieli non se n'è accorto, ma tutto il resto del mondo giornalistico oggi se n'è accorto, ma io ho un altro sospetto, che in realtà Mieli è troppo intelligente per non essersene accorto. Ha scritto il pezzo prima che ci fosse il casino, alle 11 di mattina, alle 10 di mattina, contestando la visione di Tronti, pensate voi che interesse di questa vicenda, e poi dopo quando gli hanno detto guardami Mieli, sono le 7, guarda che questi stanno litigati, ho scritto il pezzo che non litiga, allora gli ho aggiunto tre righe. Vabbè, comunque sia, manovra lite tra gli alleati, titola ovviamente tutti i giornali, sulla rimodulazione dell'IVA, voglio una pausa di riflessione, ma te do un cazzotto, bisogna trovare 23 miliardi, che sono la clausola di salvaguardia per cui, che era stata messa dal passato governo, ma c'è un piccolo particolare, quando Gualtieri, quello serio, quello europeo, quello che non si droga, quello che non prende un gin tonic, quello che è un mojito, non sa neanche che cosa sia, quando va dall'annunziata, dice, devo pagare il conto del papete, facendo una battutona, riguardo al conto che avrebbe lasciato il passato governo, e che lui dovrebbe affrontare su queste grandi e possenti spalle dell'economista Gualtieri, però ci sono un paio di dettagli, che il conto del papete, che esiste, non è quello di Salvini, ma è quello del reddito di cittadinanza, la straminchiata di 7 miliardi, di quota 100, una semiminchiata da altri 7 miliardi, e la flat tax, e queste tre cose, che secondo me è una cosa buona e giusta, queste tre cose, Gualtieri non le smentisce, non ha cancellato, come ha detto ieri, e come c'è scritto oggi sui giornali, il reddito di cittadinanza, neanche quota 100, e grazie al cielo neanche la flat tax, l'unica cosa che ha cancellato, è la flat tax tra 65 e 100 mila euro, che sarebbe dovuta passare al 20%, e che come oggi, il sole 24 ore, in un'inchiesta fa vedere chiaramente, riguarda soprattutto il nord produttivo, e lasciamo perdere, quella non ci sarà, e si risparmia un miliardino, quindi il conto del papete non esiste, perché quel conto del papete, lui lo paga, convinto, e si chiama reddito di cittadinanza, e quota 100, ma quello che lui vuole fare, è qui pensionato semplice, 5 miliardi di tassi in più per l'IVA, questa è l'ipotesi del governo, che io mi auguro che non avvenga, quindi tu togli 5 miliardi dall'IVA, e li metti alla riduzione del cuneo fiscale, ma ragazzi, ma manco il mago, ma manco il gioco delle tre carte a Napoli, o a Bari, o ad Andria, ma tu perché devi togliere 5 miliardi con l'IVA, e restituirli attraverso la riduzione del cuneo fiscale, io vorrei trovare un economista che mi spiega per quale cacchio di motivo si tolgo le tasse da una parte, le metto dall'altra e fa meglio al paese, fai solo un disastro, fai solo un casino, nel frattempo è molto interessante tutte le evoluzioni sul possibile sconto fiscale, cioè se tu paghi con la carta di credito, pagherai il 12% di IVA, quindi comunque te l'aumentano dal 10 al 12%, se paghi in contanti è 12%, se paghi con la carta di credito è 12%, ma alla fine del mese ti arriva un 3% di cashback, cioè ti restituiscono il 3% di quello che hai pagato con la carta di credito, con una serie di potenziali e assurde situazioni che io vi voglio semplificare, chi è che ha i vostri numeri, chi è che ha i vostri dati, quelli potranno sapere anche qual è il ristorante dove ti sei trovato, cioè siamo così sicuri che è necessario proprio infornare tutti quanti, sì, uno si legge The Circle e capisce che forse è meglio che lo faccia l'Agenzia del Trato Italiano che Facebook, è tutto da vedere, le partite IVA ve l'ho detto, l'IVA dei ristoranti secondo alcuni potrebbe salire al 12%, l'altra cosa straordinaria, la riprende quella della sera, ma ieri l'aveva scritta la verità, la brigatista che ha il reddito di cittadinanza di 623 euro, si chiama Federica Saraceni e questa stronza, scusatemi se mi permetto di usare questo termine, ha ucciso Massimo D'Antona, consulente del Ministro del Sviluppo Economico e del Lavoro, l'ha ucciso nel 1999, non nell'epoca delle Brigate Rosse del 70, non negli anni 80, nel 1999, figlia di un magistrato, figlia di un deputato del PD, perché poi oltre al magistrato ha fatto il parlamentare del PD e De Verdi, il fatto che tutti noi si contribuisca i 623 euro di reddito di cittadinanza di questa brigatista che dovrebbe stare in carcere, invece sta a casa, in arresti domiciliari, non è un mio problema, ma ci pensasse papà suo che l'ha difesa come avvocato quando lei ha ammazzato D'Antona, non la collettività, perché non è essere fascisti questo, è essere persone di buon senso e questa cosa dovrebbe unire a sinistra, a destra e in centro. Una donna che uccide un signore che si chiama D'Antona e lo uccide bigliacamente, gli danno 21 anni di carcere, ce ne passa soltanto una quindicina, dopo va a fare gli arresti domiciliari a casa e per di più si prende un reddito di cittadinanza in un paese normale, si urla, si urla, non si ammazza, non si prendono i forconi, ma si urla, è il minimo che si possa fare nei confronti di Federica Saraceni. Oggi Verità scopre che ce n'è anche un altro, ma già lo sapevamo. Sbarchi in fantasma. Continuano, vi noto soltanto cosa dice il Corriere della Sera? Che Salvini dice a settembre sono stati 2000 e il giornalista del Corriere della Sera fa i numeri sono diversi. Allora andiamo a leggere i numeri che fa il giornalista del Corriere della Sera. Nei primi 5 giorni di settembre ci sono stati 489 sbarchi e nei restanti giorni ci sono stati 1572. Allora ho sommato 1572 più 489 sono 2061. Salvini aveva detto 2000 e questo dice 2061. Il giornalista del Corriere voleva intendere e lo fa capire che nei primi giorni di settembre quando lui dice ancora Salvini governava c'era uno sbarco quotidiano più alto rispetto agli altri. Ma il principio resta che gli sbarchi stanno aumentando rispetto all'anno scorso. Questo forse toc toc anche il Corriere della Sera se ne può accorgere. Di Maio nel frattempo fa il leghista come se nulla fosse dice non voglio il reddito di cittadinanza non voglio lo use culture non voglio lo use culture non voglio migranti in Italia insomma fa il leghista nel frattempo sotto la Repubblica gli piazza la Azzolini che è diventata del Movimento 5 Stelle il sottosegretario che dice vogliamo lo use culture referendum della Lega cambierà tutto perché vogliono il sistema uniluminale come gli inglesi a me per carità molto meglio l'uniluminale che il proporzionale ma vorrei segnalare a Calderoli e a tutti quelli che sono pazzi del maggioritario e io sono pazzo del maggioritario ed è molto meglio del proporzionale che non basta il sistema maggioritario per governare un paese. in Inghilterra hanno un sistema elettorale per cui vince uno in un collegio e sconfice tutti gli altri eppure non riescono a governare se tu non cambi il sistema di governo è difficile che la legge basti da sola sulla Greta è fantastica l'ipotesi di Repubblica perché Letta oggi veramente Repubblica ogni tanto si fumano quello che si deve essere fumato e mieli cioè il titolo oggi è facciamo votare i gretini cioè sostanzialmente i ragazzi fino a 16 anni devono votare perché quelli secondo Letta possono essere il grande futuro di questo paese quindi la soluzione del PD è facciamola votare i ragazzi di 16 anni io sono molto d'accordo di far votare i ragazzi di 16 anni ma non già perché sono seguaci di Greta perché oggi ovviamente si è molto abbassata la soglia di maturità delle persone ma lì la questione è sempre politica quindi siccome manifestano per Greta siccome l'ambientalismo è il nuovo socialismo del prossimo millennio portiamoceli a casa così vinciamo le elezioni Zichicchi risponde oggi fantastico sul giornale ma insomma magari se Greta studiasse non farebbe un etto di danno su Kurz è diventato il cancelliere austriaco che è di destra ragazzi è di destra l'avete capito che è di destra che manco ve lo sognate il 33enne Kurz tutti contenti perché è stato sconfitta l'ultra destra che peraltro ancora il 16% e peraltro i giornali italiani compreso Letta Tornabuoni oggi su Repubblica si dimenticano nelle prime righe dei loro pezzi di dire che l'alleanza che loro tanto amerebbero tra Kurz e i socialisti cosa che potrebbe avvenire e quindi serve una specie di conte bis come dice giustamente Letta Tornabuoni in Austria perché passa con i suoi nemici i popolari prima avevano fino a maggio la destra la destra oggi perde i socialisti diventano nuovi alleati sarebbe un altro conte ma c'è un piccolo dettaglio che i socialisti hanno preso il voto peggiore nella storia austriaca e questo viene messo così a un passone nelle righe del giornale molto bello come sempre il pezzo di Gervasoni scontro questa ossessione diciamo dello Ius Culture ma il fatto nuovo è che scrive sul giornale benvenuto quindi a Gervasoni sul giornale e soprattutto a tutti voi questa sera tutti collegati a Rete 4 avremo Bersali uno degli azionisti di maggioranza di questo governo a cui chiederemo molto conto del Diva e anche la Borgonzoni si candida o no alla presidenza di media romagna a questa sera ciao